Eccolo la prossima giornata Euparasport treno di Yono non so Euparasport in arrivo a Euparasport non so che vuol dire Euparasport di la la videocamera è tutto cinesi noi siamo in italiano e danni euparasport treno di Yono euparasport tra giù Yono dice euparasport Eccolo la adesso è italiano ma adesso era dobbiato italiano io becco ma dai lunetta Magliana let's go prossima giornata euparasport euparasport tutto tunnel vai 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 Thomas corre come un treno Thomas questo è il ritorno edificazione Iono la metropolitana del B1 ha ragione sta correndo sempre adesso guardiamo i paesaggi ecco è Luis Fernandes rng pronti rng ma si per favore guarda le finestre attirà e lanciare le palli esplosive Bouser e dice Bouser da palla eccola 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 no Bouser è come un motore frullatore e poi non dice Bouser da palla Bouser ecco il parcheggio e ora diventa giorno tutti i paesaggi 19 come il tram pronti sono Pupa mio mi chiamo Pupo Pupo è Fufa è Fufa è Fufa è Fufa non interrompere il treno dice vietato aria sottosopra non so che vuol dire sottosopra ma sottosopra è già capovolto no è riavolgere riavolgere eccola Marconi prossima fermata direzioni diversi per andare a vedere tutti i paesaggi guardate che bello tutti gli alberi oh no è di nuovo due uno due tre tre ma quanti sono? o no passano le religie Isabelle Matam questo è moda artistica è una moda questo è il costume di Calzedonia bellissimo andiamo a guardare tutti i paesaggi sono oggi è una moda turistica bello questi paesaggi cancelli io becco sempre i cancelli i cancelli i cancelli mi fanno vedere la stazione il tren Italia ah no ah no dai Muratella guardatevi accelerai immediatamente circo massimo ah mi sto tremando è muore il treno il macento in arrivo a Marconi uscita l'altra sinistra ma guarda ma guarda non sai sono youtuber 3.1 3.1 3.1 Marconi 3 notti Marconi 3 notti Marconi una vecchia l'altro è nuova ciao ciao vecchio treno Roma Atac Roma Atac ciao 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 come si è andato? come dicebbe qui? ciao ciao come un motore un treno vai prossima formata Basilica San Paolo treno per Yono non so Basilica San Paolo com'è Yono a via via Gran Paradiso la casa di Natalia ecco l'autostrada tutti i parco giochi gli altaleni guardate che belli tutti i passaggi i palazzi e che bello queste case e un palazzo con il balcone l'autostrada Basilica San Paolo uscita dal lato sinistro ma Basilica San Paolo ma ma Basilica no Basilico Basilica 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 è una chiesa e che è il sole nella stazione l'avvertenza traslazione Bologna a Tivortina eccolo cosa sei ecco la garbatella che gli dici? guardate che bello tutti in cielo, guarda che bello, no siamo al tunnel, straordinario questo trenino, Thomas che fa YouTube e Sir Toppan, no sta passando, come fa Tom? ci sono nuove dentro i palazzi, ma stiamo esterni, sotterranea, no fate fatica alle stazioni, abbassa la voce, la stazione Rebibbia, quindi c'è il treno per la ventina, Ionio, abbassa la voce, prossima femma, 4.1, eccola 4.1, è una voce a due parlanti, io becco sempre, ecco, una ventina, 5 minuti, è un mio massimo, via! Gerbatella, treno per Ionio, Gerbatella, 21, Ionio, eccola, Gerbatella, andiamo a guardare per cui spiegarmi, allora, ascensore fu i servizi, monti di bottine e Rebibbia, fu il servizio dell'ascensore, ecco gli youtuber, allora, Gico Massimo, no è piramide, a sinistra, c'è l'automobile, le vetture, vetture è il sinomino di macchina, taxisti, bello, aia, la fastidio, metta il braccio del sport, va, ding, perché io stavo guardando il Poké Tonks, che gioca, è un adulto educativo, e ah, vedete, siamo al tunnel del tempo, come un treno dei dinosauri, un cartone, oh, oh, è diventato notte, buio, alla stazione Rebibbia, ecco, so presa, eccola, la corrisponenza della vera via dell'onstein, del, ahia, ahia, va male, perché ho un problema nelle porte, non si schiude, allora, la luce è verde e non si accende, ah, doma tardi, adesso Circo Massimo, porti, buonanotte, 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 controllo alla pressione, attenzione, stazione Bologna, la stazione Castro Vittorio e Poli Clinico chiusa per lavori, non l'ho sentito, ho preso la stazione Sant'Agnese a Nimbagliano, Sant'Agnese a Nimbagliano, bello, la piazza a Nimbagliano, la porta emergenza di sicurezza, oh no, 4.2, ho sentito, 4.2, è stato sopra dei tre pet, eh, da dove va, di fare la curva, oh no, tutta curva, sempre curva, ha tutta, eccolo, tutto il tunnel, non è sboltato l'estista, eccolo, eccolo, la Circo Massimo, ma ancora una fermata, eccolo, 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 la Circo Massimo, la stazione Circo Massimo, Bologna, Tiburtina, metro B, impianti di trasformazione, fermi di manutenzione, eccolo, dice, attenzione, treno per la ventina, beh, non dimenticheremo, c'è volume basso, sono nella stazione Termini, oh oh, oh no, prossima fermata, Colosseo, treno per Iodio, next stop, Colosseo, c'è info, Iodio, 92, andiamo, onore, allora, per informazioni dei trasporti, leggiamo, trasporti, per i trasporti sui trasporti, permessi di servizio e per la mobilità, vai su www.movesiroma.it, via, agenzia, mobilità, roma, punto, roma, punto, it, il suo segnale, è tutto il triangolo, e quindi la metropolitana, dovete scendere per forza, quando va finito, il tunnel apre la porta e lo sento, perché non si prende, c'è il minaio che sgamma, va bene, scendiamo a stazione Colosseo, oh oh, il giro destra, non funziona, il volume è altissimo, stazione Colosseo, grazie e arrivederci.